Però individuare un sito vuol dire poi avviare la procedura per l'approvazione, cioè bisogna presentare un progetto di discarica, questo progetto va sottoposto alla valutazione di impatto ambientale, perciò alla valutazione delle autorità competenti. È in questa fase che sono emerse le problematiche dovute sia ai rischi per il bacino acquifero che si trova esattamente in quell'area e che è strategico per l'approvvigionamento idrico di Roma, sia per quanto riguarda la vicinanza con Villa Adriana. E allora sostanzialmente abbiamo cercato di capire se esistono delle alternative. Il prefetto ha ritenuto di insistere su questo sito perché a suo giudizio era l'unica soluzione praticabile ed è una soluzione che nei fatti non risulta praticabile, per cui ha ritenuto lealmente di presentare le dimissioni e poi di confermarle, nonostante che gli fosse stata data la fiducia dalla Presidenza del Consiglio. Noi abbiamo preso atto delle dimissioni del prefetto ma abbiamo detto che bisogna continuare a lavorare, per cui dobbiamo esplorare rapidamente tra le soluzioni che già sono state individuate e quella che risponde meglio ai requisiti previsti dalle leggi nazionali e dalle direttive europee, sapendo che il problema principale non è avere una discarica pronta ma far partire tutto il sistema della gestione dei rifiuti, altrimenti non ne usciremo mai fuori.